Da sabato 1 maggio apre le porte ai visitatori il Museo del Tesoro del Duomo e abbiamo il primo visitatore, nonché Stefano Chiodarolli. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono lusingato di essere il primo visitatore. È un'isola magica qua dentro. Sono curiosissimo di andare a vedere le sale. E' tutto qua. La curiosità è un sentimento vivace che mi sostiene e per cui grazie a chi mi ha invitato nel museo perché avete dato cibo per la mia anima, adesso vado a cercare cibo per gli occhi. Allora ci seguiamo. Grazie. E ci troviamo nella Sala degli Arazzi con la dottoressa Nicoletta Sanna, conservatrice del museo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi è l'apertura, finalmente dopo il lockdown. Tutti questi mesi di chiusura e di tristezza perché effettivamente noi avevamo già proposto un ingresso contingentato perché al massimo 15-20 persone. Però non abbiamo potuto aprire proprio per quelle che erano le normative e oggi invece finalmente possiamo permettere ai visitatori di vedere i nostri tesori. Ecco, orari e giorni? Allora, noi siamo aperti il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, mentre invece tutti gli altri giorni della settimana possiamo aprire su prenotazione. La prenotazione vale anche per il sabato e la domenica. Si può anche prenotare online? Certo che si può prenotare online, sui nostri social e sulla mail info.mtdvgevano.com E Stefano Chiararoli sta uscendo dalla visita del museo dei tesori del Duomo e vogliamo sapere la tua impressione, Stefano. La mia impressione è molto positiva perché la bellezza è una cosa che non ha bisogno di essere commentata, che supera mille discorsi, piuttosto che un sermone su cos'è la bellezza è meglio mostrarla e questo fatto poi illumina tutta la realtà. Ecco, diciamo che vado a casa con gli occhi pieni di bellezza e mi piacerebbe che tutta la città diventasse come questo museo, imparassi a trattarsi come qui trattano la bellezza.